bentornato a tutti sul canale di danni mostro 579 perfetto come potete vedere ho fatto poco tempo fa la gabbia e ho deciso di metterci dentro il coccodrillo perfetto come potete vedere ho messo la voce perchè fraps me lo permette allora acqua salata in grandi quantità ok non c'è abbastanza terra cominciamo a mettermi un mino quantità una qua dove c'è il rapporto dentro l'altra un mino quantità più vegetazione capito che mi piace un mino quantità un mino quantità un mino quantità per questa puntata di Zou Taikon abbiamo finito arrivederci a tutti